Un brand americano ma con una forte componente italiana è Blower USA che ha presentato la collezione Spring Summer per il 2024. Unendo la storia del marchio nato negli Stati Uniti nel 1936 per vestire le forze dell'ordine e il lavoro, ha una forte attenzione alla sostenibilità. A presentarcela Enzo Fusco, presidente di FGF Industry, l'azienda che ha importato e che realizza il brand Blower USA in Italia e in Europa. Noi abbiamo fatto tre gruppi ben precisi dove naturalmente, siccome crediamo al ritorno un po' delle fibre naturali, abbiamo inserito cotoni, popelin, dei capi che dovrebbero essere un po' diversi dal solito. Partendo da questa scelta, la collezione presenta il filone work con una linea donna che viene definita molto dolce. Accanto a questo c'è il tema parachute che guarda lo stile militare ma con un'attitudine più urban. E l'ultimo tema abbiamo un po' mischiato i materiali che è un po' quello che ci caratterizza da tempo, quindi facciamo degli esperimenti, mischiamo dei materiali, nylon, neoprene e altre fibre insieme e vengono fuori delle cose simpatiche. C'è poi l'aspetto ormai imprescindibile della sostenibilità anche a livello di materiali. Quest'anno abbiamo preso un tessuto che si chiama Ocean dove vengono recuperate tutte le bottiglie che ci sono purtroppo di plastica nei mari, vengono recuperate, vengono lavorate e viene fatto questo tessuto. Abbiamo fatto dei piumini leggeri per la primavera che sono al 100% riciclati sia all'interno che all'esterno. Oltre alla collezione con Fusco si è parlato anche di possibili sviluppi futuri partendo dalle nuove aperture di negozi in Italia per arrivare poi a scenari macro. I progetti per quello che riguarda FGF sono aprire dei nuovi mercati tipo Corea, Giappone e forse domani anche Cina, America. Ci stiamo lavorando perché è cambiato un po' il modo di vendere, di lavorare, bisogna avere dei partner, bisogna fare delle operazioni diverse dal solito, però ci stiamo lavorando.